Ciao sono Jill Cooper e voglio parlarvi dei benefici di Be Good. Be Good è fatto con Dermofibra Cosmetics, due tecnologie in uno. Dermofibra produce FIR, FAR infrarossi o infrarossi a raggio lontano, che possono penetrare la nostra pelle fino a 5 cm per agire sulla adesione molecolare tra le molecole d'acqua. Entro 90 minuti noterete già che state drenando. Raggi ed infrarossi lontani ci aiutano anche a rilassare la muscolatura, ci potrebbe aiutare a ridurre i fastidi articolari, i crampi magari durante quel momento del mese. Ci aiuta a rilassare e sentirci veramente bene. I FIR sono eccellenti anche per stimolare il rilascio del grasso sottocutaneo e aumentare il metabolismo cellulare. Ovviamente non è proprio un tessuto dimagrante, ma aiuta a perdere i centimetri. In più abbiamo la Cosmesi, la Cosmesi microincapsulato e ben affilato per oltre 50 levaggi. Questo che significa? Significa che stiamo camminando e vivendo in proprio una nuvola di principi attivi che ci aiutano a tonificare, idrettare, elasticizzare e migliorare la qualità della nostra pelle. Insieme tutti questi benefici di Be Good ci aiuteranno ad avere una pelle più tonica, più tesa, migliorando anche gli anestesismi della cellulite. Provate subito Be Good, indossateli il più possibile e vedrete subito i risultati. E' già rilascio gli stessi!